E bella a tutti diavoli e benvenuti ufficialmente su Cyberpunk 2077 Direi di violare subito il sistema ed entrare facendo una nuova partita Allora, io intanto metterei difficoltà normale perché gli sparati c'è in questi tipi dei giochi Non sono proprio un master Allora, io li ho già letti E escluderei subito il nomade E siccome in Cyberpunk mi sa di quel... Quello... come si può dire... Un scagnozzo più delinquente, sì, come diceva mia nonna Sì, e quindi io direi né nomade né corporativo perché si deve iniziare dal basso Quindi vita da strada è la scelta migliore secondo me Perfetto Corporatura, intanto ovviamente è uomo Poi Tono della voce Io sono V Ma anche loro Io sono P Io sono V Io sono P Perfetto, questo Poi Colore della pelle Vediamo Media 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 Allora Colore della pelle Non lo so, questo mi ispira Però aspetta, andiamo avanti Andiamo avanti bene allora questa ci sta tipo pelle oddio ma anche no no io lascio quella originale pettinatura no ma anche no oddio ma per favore no ma che cazzo è Bob Marley no 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 non lo so vediamo allora oddio vabbè io sceglierei questo mi ispiro vai colore dei capelli avviciniamoci allora colore dei capelli no però si dai ci sta andiamo avanti un secondo ci sta più questo l'altro 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 poi occhi vengo eh aia difficile però sono tutti schifo quindi io lascio quello originale che non era qui no ok occhi oddio dove sono adesso quelli saranno questi vabbè io lascio qui ci sta oddio perfetto passiamo fisico allora ok ok ci sta allora riflessi capacità tecnica freddezza allora freddezza siamo diavoli ragazzi 6 poi intelligenza riflessi allora togliamo la grappa freddezza lasciamo qui intelligenza mettiamo 4 e fisico 5 perfetto ci siamo successivo vedi di strada fisico intelligenza riflessi capacità tecnica e freddezza conferma noi siamo freddi come la pane come la pane perfetto pronto ad iniziare il gioco io si però non pensavo fosse già arrivato vado guarda vado a vedere se ha trochi fatti perché poi mi cade vado a vedere